Potente a parare ragazzi, qua è un po' ragazzi, sono qui a presentarvi questo nuovo video che ragazzi è un nuovo pack opening Incredibilmente da quando hanno introdotto la generata del price range non avevo ancora fatto pack opening E oggi ho detto, eh no, eh no, eh no Sono usciti i pacchetti da 100.000 e ragazzi colgo l'occasione per dirvi Lo so, state tranquilli, so che domani è l'ultimo giorno per cercare di vincere il torneo Però oggi non avevo assolutamente tempo di appunto registrare l'episodio, perché? Perché nel settembre domani ho un futuro da studiare ma ero stanchissimo Non riuscivo a studiare, mi sono anche addirittura sdraiato a letto perché sono distrutto Ma soprattutto perché ho avuto l'interrogazione orale, o meglio l'esame orale del first Quindi ragazzi, c'è stata un cosa imbarazzante Non so se qualcuno di voi ha fatto il first But, se l'avete fatto, scrivetemi come è andato Perché io appunto ho fatto oggi l'orale e sabato avrò tutto il resto Quindi se nei prossimi video non vedrete video, non ha molto senso per le frasi Sapete dunque il motivo Comunque non vado ad aprire i pacchetti da 15.000 ma quelli da 100 Quindi siamo qui con la maglia di Rob Gronkowski pronti ad aprire il pacchetto Quindi io farei di sì Andiamo per il primo pacchetto da 100.000 e chiudiamo gli occhi Chiudiamo gli occhi ragazzi Voglio su Questa è stato un giabba mi piace che vi sto vedendo carichi Mi serviva proprio sempre il nostro sostegno Quindi andiamoci con l'idà E adesso ho con gli occhi E ciudiamo l'informa E' stato un giabba mi piace che vi sto vedendo carichi Informa Tony Cruz Brightweight Fenomeno Markovic Adesso sono curioso di sapere il prezzo dell'informa Proviamo a vedere 5.000 prezzo minimo Ottimo Comunque ragazzi Comunque questo pacchetto Non ce ne erano neanche due Ma sono diventati proprio tirchie Ma in una maniera scandalosa Non ce ne erano neanche due pacchetti Ragazzi vabbè vabbè ci accontentiamo con questi dai Proviamo a vedere Carabu Lut e Martin O Baffini E non ci credo proprio neanche morto che lui sia dall'84 Non ci credo proprio E dai sarà un bel pacchetto Veloze veloze Però se potete lasciate un nostro mi piace Che ho bisogno di sentirvi Portatemi fortuna che nel first Ne ho veramente bisogno ragazzi Ve lo posso assicurare Anche se sono madrelingua ormai Come si può sentire ormai dai video Però fa niente Dai Oddio Oddio ma questi sono illimitati L'ho appena notato Cioè Mettono un pacchetto da 100.000 E poi ste schifezze illimitate Ma io non lo so Ma non lo so Qui Oddio mio Ma guarda te che cosa imbarazzante Ragazzi Andiamo ad Vabbè dai è stato Possiamo chiamare un pacco per veramente veloce E Dio fa uno Dai Possiamo chiamare un pacco per veramente veloce Andiamo Ad aprire l'ultimo pacchetto di oggi Intanto ci siamo andati due a chiacchiere Chiudiamo gli occhi Aspettiamo E al tre Rialziamo lo sguardo Uno Due Tre No ma stiamo scherziamo Non può finire così il video Devo trovare un buon giocatore Che l'ultimo pacchetto Mamma mia Non finirà più Non finirà più Oh stiamo trovando Tutto il Real Madrid Si manca Ronaldo Che mi hai chiamato Oh moia Dai facciamo anche questo L'ultimo pacchetto Dai No Oddio Che cosa sono Dai Ti prego Fammi trovare qualcosa Non riesco più a chiudere il video Questo lo guardiamo Attenzione Attenzione Ho paura che questo pacchetto Continua all'infinito Perché alla fine i pacchetti Non finiscono Noi non riusciamo a trovare nessuno Dai facciamo anche questo Era il penultimo Andiamo per l'ultimo pacchetto Ultimissimo pacchetto ragazzi Sessantesima volta che lo dico Vediamo un po' Chi troviamo In nome di San Patrizio Bella Rabi Khan Ragazzi questo difensore Ha 4 stelle d'abilità Trovate un buon difensore Un 4 stelle d'abilità Comunque ragazzi Detto questo Il video è terminato Spero che vi sia piaciuto Abbiamo trovato alla fine Un belliformino Ed in Zeko Dai È il suo compleanno Non potete farmi trovare qualcosa di buono Il giorno È il suo compleanno Guardate D6703 2015 È proprio oggi Comunque ragazzi Detto questo Trovate da dire Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Aspettate che a brevissimo Oltre appunto ad uscire Il continuo della Coppa di San Patrizio Usciranno anche un maciello Di video non erente a FIFA E non erente a nuovi videogiochi Aspettate Detto questo Vi saluto In compotente A passare al prossimo video Ciao a tutti